Ragazzi è inutile, l'auto non parte! Oh, ma non è possibile Gekko, provaci ancora! Mmm, dubito di riuscirci, però proviamoci! Dai Gekko, prova a accelerare! Ci sto provando Gattoboy, ma non parte! Mmm, ci deve essere qualcosa al motore! Oh, guarda guarda i PJ Masks, che cosa vi è successo? Oh Romeo, non sono affari tuoi! Mmm, sembrate molto in difficoltà! Sì, ma non vi preoccupate, ce la risolviamo da soli! Beh, peccato, perché ho appena inventato questo laser in grado di aggiustare qualsiasi cosa! Beh, dai ragazzi, forse per questa volta possiamo anche farci aiutare! Mmm, dici che c'è da fidarsi Gekko? Mmm, non lo so Guffetta, ma meglio che niente, almeno magari riusciamo a sistemare l'auto! Ok, va bene Romeo, aiutaci pure! Ah ah ah, stai a vedere Lunetta! Bene Gekko, allora scendi dall'auto! Ecco Romeo, fai pure la prova! Oh, quanto siete ingenui PJ Masks! Ah! Oh no, ma cosa c'è successo? Ah ah ah, ve l'aveva detto Romeo, siete solo degli ingenui! Sì, vi ho trasformato in Genga! Oh no, guarda che cosa è successo! Sì sì, ho visto Bing! Romeo ha trasformato i PJ Masks in dei mattoncini colorati! Oh, andiamo a vedere se riusciamo a risolvere la situazione! Romeo, ma che cosa è combinato? Ragazzi, voi state bene? Oh sì sì, grazie amici, ne stiamo benissimo! Oh, benissimo! Sono arrivati i vostri amici, allora vi sfido! Oh, e in che cosa vuoi sfidarci? Se vorrete di nuovo i vostri amici indietro, dovrete vincere la sfida di Genga! Oh Bing, dobbiamo provarci assolutamente! Sì sì, va bene, ci stiamo! Ecco qui la torre di Genga, giocheremo a turno! Oh, e come si gioca? Beh, semplice, dovremo lanciare il dado a turno e in base al colore che uscirà liberare i mattoncini! Ovviamente senza far cadere la torre, il primo che la farà cadere perderà! Oh, va bene dai, e quante possibilità abbiamo? Solo tre! Oh no, Bing sono pochissime, credi che riusciremo a farcela? Sì sì, non ti preoccupare barbapapà! Ottimo! Allora comincerò io a lanciare il dado, poi lunetta, Bing e barbapapà! Siete pronti? Sì Romeo, siamo pronti, vedrai che vinceremo noi! Non canterei vittoria così facilmente! Vai Romeo, comincia! Ok, vediamo! Bene, devo estrarre un mattoncino rosso! Allora, io direi di provare... Beh, col primo in alto ovviamente! Oopla! Senza far cadere niente! Adesso ci provo io! Azzurro! Benissimo! Oh, qui in alto ce n'è un altro molto semplice da togliere! Ecco qui! Oh, speriamo che esca il verde, è il più semplice! Oh no! Azzurro! Oh, Gatto Boy, devo provare a tirarti fuori! Non ti preoccupare, Bing! Fai piano e vedrai che ce la farai! Ok, io ci provo! Oh, è molto difficile, si muovono! Prova a prendermi dal davanti! Va bene, va bene! Oh, sì, dai, ce la sto facendo, Gatto Boy! Tieni duro! Oh! Ecco, ce l'ho fatta! Bravissimo, Bing! Grazie! Oh, di niente! Ho un po' paura! Vediamo! Mmm, è rosso! Oh, no, questo è difficile! Allora, facciamo con molta calma! Oh, si muovono tutti quelli verdi! Oh, devo riuscire a tirarli giù! Oh, piano, piano! Sì, ce l'ho fatta! Bene, tocca ancora a me! Oh, rosso! Mmm, vediamo cosa posso tirare via! Oh, bene, l'unico rosso libero è qui dietro! Proviamoci! Con molta calma! Oh, no, stanno cadendo! Cadono, cadono! Oh, lunetta, stai bene? No, per niente, mi è arrivato un mattoncino in testa! Oh, evviva, Bing! Un punto per noi! Bene, ragazzi, il punto è vostro! Adesso rimettiamo a posto la torre e ricominciamo! Dammi qua, adesso tocca a me! Oh, rosso! Beh, l'unico rosso che riesco a prendere è proprio questo! Oh, perfetto! Vediamo, vediamo cosa mi esce! Oh, verde! Beh, dai, quello è facile! Eeeh, hopla! Tocca a me, tocca a me! Oh, azzurro! Anche questo è facilissimo! Haha, ecco qui! Adesso è il mio turno! Rosso! Beh, dai, è molto facile anche questa! Oh, hopla! Perfetto! Vediamo! Oh, rosso anche per me! Mi raccomando, lunetta, stai molto attenta! Oh, non sono di certo imbranata come te! Oh, no! Qui è molto difficile tirare fuori il rosso! Mmm, dunque, proviamo qui da dietro! Vai, dai, dai, dai! Sta uscendo! Oh, no, 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 ho sbagliato! Oh, no! Scusa, Romeo! Ti avevo detto di stare molto attenta! Adesso, per colpa 2, siamo 2 a 0 per loro! Haha, stiamo vincendo, barba papà! Sì, così i nostri amici torneranno normali! Evviva! Oh, dai, speriamo di vincere! Mmm, verde! Meno male, questo è facile! Oh, hopla! Adesso è il mio turno! Ho paura! Oh, azzurro! Anche questo dovrebbe essere facile! Sì, infatti! Haha, ce l'ho fatta! Adesso tocca a me! Mmm, azzurro anche per me! Facciamo molta attenzione questa volta! Oh, piano, piano! Non devo assolutamente far cadere la torre! Oh, sì, meno male ce l'ho fatta! Oh, devo stare molto, molto attenta! Verde! Mmm, questo è difficile! Quasi, quasi! Provo a prenderne uno e mezzo! Vediamo! Oh, piano! Devo fare molta attenzione! Oh, non riesco a farlo uscire da dietro! Vediamo di qua! No, ma è incollato! Aiuto! Oh, dai, dai! Sta uscendo! Oh, sì! Ce la posso fare! Ce la posso fare! Oh! Meno male, così Romeo non mi può dire niente! Bravissima lunetta! Vediamo, vediamo! Verde anche per me! Oh, no! Beh, proviamo a togliere questo! Oh, devo fare molto delicatamente! Oh, sta cadendo! No, meno male è ancora lì in equilibrio, per fortuna! Oh, speriamo che mi capiti un rosso! Oh, sì! Che fortuna! Ecco qui, lo prendo subito! Oh, vediamo cosa esce a me! Rosso anche per me! Che fortuna! Ecco qui, no! Oh, no! Li ho fatti cadere tutti! Eh, lunetta, stai bene? No, perché quando giochi tu e fai cadere i mattoncini arrivano sempre in testa a me! E in più, per colpa tua, abbiamo anche perso! Oh, mi dispiace, lunetta! Non volevo farli cadere! Non sono stata abbastanza attento! Evviva, Bing! Abbiamo vinto! Sì, che bello! Adesso, Romeo, devi mantenere la tua promessa! Noi abbiamo vinto e tu dovrai far tornare i normali PJ Masks! Beh, per vostra fortuna, sono un uomo di parola, quindi... Sì, li farò tornare i normali! Ecco qui! 3, 2, 1... Ehi, ragazzi, guardate! Siamo tornati i normali! Oh, sì, che bello! Meno male! Oh, per colpa di Romeo e lunetta giocare a Jenga, ho fatto certi voli! Adesso ho un gran mal di testa! Ah, chi lo dici? Grazie, ragazzi! Se non fosse stato per voi saremo ancora dei mattoncini! Oh, non vi preoccupate, ragazzi! Abbiamo fatto di tutto per vincere! E adesso, Romeo, ti conviene andartene via se non le vuoi prendere! Oh, sì, sì, certo! Andiamo, lunetta! Addio, PJ Masks! Grazie ancora, ragazzi, siete stati bravissimi! Oh, di niente, ragazzi! Ci siamo anche divertiti a giocare e a eliminare Romeo! Avete visto, bambini, come sono stati bravi Bing e Barba Papà a salvare i PJ Masks? Se il video vi è piaciuto, ricordate di lasciarci un bel mi piace! E se non lo avete ancora fatto, cliccate qui per iscrivervi al canale! Mentre se volete vedere tantissimi altri video, cliccate qui! E noi ci vediamo prestissimo! Ciao, bambini!